Amici del mio cuore, siamo tornati con un altro video sul libro degli spiriti, un libro scritto da Alan Kardec e dagli spiriti. Siamo nell'introduzione al libro parte 12. Oggi risponderemo alla seconda domanda. Come sapere se gli spiriti sono chi dicono di essere? Una buona domanda. Allora, vediamo. È un fatto dimostrato dall'osservazione e confermato dagli stessi disincarnati che gli spiriti inferiori usurpano spesso nomi conosciuti e riveriti. Chi dunque può assicurarci che quelli che asseriscono di essere stati, per esempio, Socrate, Cesare, Napoleone, Washington e simili, abbiano realmente informato il corpo di questi personaggi? Un tale dubbio esiste anche fra alcuni seguacci ferventissimi della nostra dottrina, i quali ammettono l'intervento e le manifestazioni degli spiriti, ma chiedono quali prove possano aversi della loro identità. La riprova, infatti, è alquanto difficile, ma se non si può tenerla in modo così autentico come per un atto di stato civile, essa non la scorta di alcuni indizi, si può conseguire, se non in modo assoluto, almeno con sufficiente attendibilità. Quando si manifesta lo spirito di qualcuno che ci è noto personalmente, come a dire di un amico o di un parente, specie se trapassato di recente, accade in generale che il suo linguaggio concordi alla perfezione con il suo carattere. E questo è già un indizio di identità, ma il dubbio non ha più ragione di esistere quando questo spirito parla di cose domestiche e ricorda circostanze di famiglia, notte soltanto all'interlocutore. Un figlio non si inganna, certo, sul modo di parlare di suo padre o di sua madre, né i genitori su quello dei loro figliuoli. In queste vocazioni intime accadono spesso particolarità straordinarie e tali da convincere i più increduli. Anche scetici induriti sono rimasti sballorditi a queste inattese rivelazioni. A conferma dell'identità avviene talora un'altra circostanza molto caratteristica. Abbiamo già detto che la scrittura del medium cambia in genere col cambiare dello spirito evocato e che si riproduce esattamente ogni volta che si presenta lo stesso spirito. Ora si è osservato migliaia di volte che specialmente nelle persone morte da poco tempo la scrittura medianica ha una rassomiglianza meravigliosa con quella che la persona aveva in vita. E si sono vedute delle firme di perfetta precisione. Si badi però che non intendiamo dare questo fatto come regola e molto meno come costante. Ne facciamo menzioni come di cosa degna di notte. Solamente gli spiriti pervenuti ad un dato grado di purificazione sono liberi da ogni influenza corporale ma quando non siano completamente sciolti dalla materia servono la maggior parte delle idee, delle tendenze e delle passioni che avevano sulla terra. Ed anche questo è un mezzo di riconoscerli oltre a un'attenta ed assidua osservazione che si può sempre ricavare ad una quantità di fatti e di minuzie che si verificano. Come quando ad esempio gli spiriti di alcuni scrittori discutono le proprie opere o dottrine approvandone o condannandone alcuni parti o altri spiriti ricordano circostanze ignorate o poco note della loro vita o della loro morte. Cose tutte che costituiscono altrettante prove morali di identità. Le sole infine che si possono pretendere nel campo delle questioni astratte. Se l'identità dello spirito evocato può dunque essere provata sino ad un certo punto in molti casi non vi è ragione di doverla negare o mettere in dubbio negli altri. E se per la persona morta da lungo tempo non ci sono gli stessi mezzi di controllo non mancano quelli del linguaggio e del carattere morale poiché certamente lo spirito di un uomo virtuoso non parlerà mai come quello di un uomo malvagio o di un dissoluto. In quanto agli spiriti che per ingannare si presentano con nomi venerati essi si tradiscono ben presto e nel parlare nelle massime come ad esempio chi dicesse di essere fenelon e offendesse anche solo accidentalmente il buon senso e la morale farebbe scoprire subito il suo inganno. Se al contrario i pensieri che esprime fossero sempre puri senza contraddizioni e informati al carattere del grande oratore non se ne potrebbe mettere in dubbio l'identità altrimenti converrebbe supporre che uno spirito il quale predica unicamente il bene possa mentire con proposito deliberato. L'esperienza insegna che gli spiriti dello stesso grado, dello stesso carattere e degli stessi sentimenti si riuniscono in gruppi ed in famiglie. E siccome il numero degli spiriti è incalcolabile e noi siamo così lontani dal conoscerli tutti e che la grandissima maggioranza di essi non ha nomi conosciuti da noi può benissimo accadere che uno spirito della categoria di fenelon per esempio venga in sua vece anche inviato da lui quale mandatario e si presenti col suo nome perché identico a lui è capace di surrogarlo e ciò perché noi abbiamo bisogno di un nome per fissare le nostre idee. E veramente che importa che lo spirito sia o non sia realmente quello di Fenelon? Se egli dice soltanto cose buone e parla come avrebbe parlato lo stesso Fenelon dà la prova di essere uno spirito buono. Il nome col quale si fa conoscere è indifferente poiché per lo più è solo un mezzo per fermare la nostra attenzione. Nelle vocazioni di persone intime il caso è diverso poiché in esse, come abbiamo detto, l'identità può stabilirsi con prove quasi evidenti. Del resto è innegabile che la sostituzione degli spiriti può cagionare un gran numero di inconvenienti ed avere per conseguenza errori ed inganni. Questa è una difficoltà dello spiritismo pratico, ma non abbiamo mai detto che la scienza spiritica sia una cosa facile da potersi imparare scherzando come per il passatempo. Anzi, giova a ripetere e lo ripeteremo ad ogni occasione che essa richiede uno studio accurato e spesso molto lungo e paziente. Siccome non dipende da noi che i fatti si producano, dobbiamo aspettare che si presentino spontanei poiché spesso sono determinati da circostanze alle quali meno si pensava. Questi fatti abbondano per l'osservatorio occulto e paziente, già che gli scopre migliaia di piccoli particolari caratteristici che sono come tanti sprazzi di luce. E questo accade anche nelle altre scienze. Così, ad esempio, mentre l'uomo superficiale non vede in un fiori che un corpo grazioso che attira per un istante il suo sguardo, il dotto, vi scorge tesori preziosissimi per le più alte speculazioni della mente. Ebbene, abbiamo finito la nostra lettura per oggi. Se questa lettura ti è piaciuta, metti piace, mi piace, al nostro video. Se hai qualche domanda, lasciala nei commenti perché la tua domanda potrebbe essere la nostra o anche quella dei nostri amici. Se non sei ancora iscritto al nostro canale, iscriviti e premi la campanella per ricevere le notifiche. Condividi i nostri contenuti con persone che hanno i tuoi stessi interessi. Dio vi benedica tutti. Bacioni. Ciao.